Per giornata da qui bisogna pensare all'essere pratico, a prescindere dai modi, bisogna fare risultati. Presidente, parliamo di, visto che non vuoi parlare di tecnici, di là, ne scolamo, potete fare la direzione anche per l'Avedino? Stiamo cercando di fare le esatte contate per l'Avedino. Dopo pochi giorni mi chiederà un esame, la verità, il tipo di mestolo. Mi riferimento alla gara di domenica di Matera, una squadra di sabato di Matera. Una squadra che ancora è il campionato che lo sta giocando, per il paletto di oggi a Comezza. E' comunque un terreno di gioco che non sempre ci ha portato bene. Storicamente austico, guarda. E all'Avedino avevo i 5-0, allora non si erano stati molto felici. Questo è un fatto un po' negativo. Eh, appunto. Certamente è un punto di ricordo, ci credo. Però effettivamente è una pazienza molto più. Però se noi vogliamo abbiere qualcosa dobbiamo cercare di tre. L'anno scorso in quella giornata è stato un risultato importante a Calanzani. Molto era nel mio ritorno a Calanzani. Speriamo di farci. Anche quest'anno. Quanto? 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 Ciao, ciao.